Cari amici di Match Fishing, ben ritrovati. Siamo al termine di un'annata agonistica un pochettino travagliata. Ci sono stati tanti, tanti problemi. Sembra, percepiamo, noi di Match Fishing, che ci sia un po' di malcontento. Spesso e volentieri in questo malcontento vengono anche tirate in mezzo le aziende. Quest'oggi, con questo nuovo format, chiamiamolo così, che abbiamo deciso di creare, abbiamo i rappresentanti di due aziende tra le più importanti in Italia, che sono Glauco Tubertini, dell'omonima azienda, e Matteo Pirazzini, della Paioli Maver. Abbiamo anche Angelo Borgati, di Match Fishing, che avrà il ruolo di fare un po' il cattivo della situazione, di fare delle domande anche brutte e scomode. Vogliamo innanzitutto ringraziare sia Glauco che Matteo, che ovviamente ci sono prestati a questa intervista, e stasera speriamo di farvi vedere i sorci verdi, come si suol dire, simpaticamente. Io passerei subito al microfono a Angelo. Angelo, sono pronti tutti per te da mettere sotto torchio. Vai! In questa posizione scomoda, devo dire, perché sono in mezzo tra Glauco e Matteo, e soprattutto nella veste di domatore o di cattivo, che non mi è consola, ma la interpreto anche volentieri in questo caso, perché sono tra amici. Volevo anche dire che a questo tavolo erano invitate anche altre aziende, che per vari motivi non sono potuti intervenire. La presenza è comunque qualificatissima, perché Tubertini e Maver sono tra le aziende leader del settore. Veniamo subito all'argomento del contendere, perché gli spunti sono tanti e gli argomenti sono tanti. Comincio da Glauco, perché so che è un argomento che già ti stava a cuore un po' di tempo fa. I campionati maggiori della pesca al colpo e del feeder sono terminati da poco. Quest'anno il meteo ci ha messo la sua e ci sono stati tanti motivi, per cui ci sono stati dei rinvii, degli annullamenti, usati i campi di riserva e quant'altro. La tua opinione su quello che è successo quest'anno e sulle soluzioni adottate? Iniziamo con il colpo, io ritengo i massimi campionati, ritengo il CIS e le Serie A. Nel CIS e le Serie A purtroppo c'è stato un po' di sfortuna, devo anche dire che c'è stato un po' di sfortuna, perché siamo partiti con il CIS, con le gare ad Adria, dove c'è stato un tempo da lupi non prevedibile, che poteva dare questo tipo di preoccupazione. Poi siamo passati alla lama, in cui c'è stata una moria di pesci, cosa che non capitava da trenta e passa anni. Poi siamo andati, mi sembra dopo, a Corbara, di cui anche lì, in un periodo che non doveva piovere e piovuto, non sono riusciti ad andare giù a pescare il secondo giorno. Poi siamo andati a Ostellato, che quest'anno purtroppo, secondo me, dovuto al fatto delle piogge primaverili e di una cattiva gestione delle acque, si è preso poco. Dunque è stato un campionato un po' anche sfortunato, non è che uno può prevedere a inizio anno tutte queste cose. Se noi guardiamo nella totalità questi campionati negli ultimi dieci anni, queste tipologie di problematiche non ci sono mai state. Dunque la dobbiamo mettere nella media dei dieci anni, non possiamo considerarlo come la realtà assoluta. Per quanto invece riguarda il feeder, lì secondo me sono state fatte un po' qualche errore a livello di scelta di campi di gara in base alle date. Un po' di confusione per quanto riguarda l'utilizzo delle esche. E non mi è piaciuto molto quest'anno il campionato di feeder, un campionato che non ha fatto prendere pesci, la gente non si è divertito, confusione, c'è stato un po' di maretta. Però anche questo lo dobbiamo mettere nella media di tutti gli anni precedenti e se noi facciamo questa media vediamo che poi il lavoro non è così brutto o ci sia tutto da buttare. Ci sono delle cose, secondo me, da migliorare, però i campionati sono organizzati bene, abbiamo una federazione che li organizza bene, abbiamo le classifiche dopo dieci minuti, abbiamo, secondo me, la federazione italiana sotto questo punto di vista è sicuramente la federazione più forte d'Europa. Grazie Glauco, vedo che Glauco è partito con calma, così. Matteo. Allora, io ho fatto entrambi i campionati, sia il campionato del CIS Colpo che il CIS Feeder, perché a me piace pescare, chi mi conosce lo sa che non riesco a stare a casa, tengo io? Non riesco a stare a casa, quindi vi dico come l'ho vissuta io da pescatore, da concorrente. Allora, partendo dal CIS Colpo, gara di Adria, c'è stata una gara bellissima, il sabato è stato pescosissimo, bellissimo, purtroppo la gara di domenica era previsto pioggia, previsto tempo brutto, vento, la gara è stata prima sospesa, poi annullata, qui si possono aprire tantissime discussioni, io facevo parte di quelli che pensavano che annullare la gara non fosse corretto, però qui ci sono dei commissari che hanno deciso che la gara era da annullare per pericolosità delle sponde, perché stava piovendo, si può parlare tantissimo, sono polemiche inutili, e quindi la gara è stata annullata, e va bene così. Cavolama, seconda prova, c'è stata una moria di pesci incredibile dovuta all'inverno strano e alle poche piogge primaverili, non era prevedibile, qui noi aziende, sia io che Glauco, che Colmich, che alcuni negozi del settore, siamo intervenuti per aumentare la pescosità, e quindi come aziende l'abbiamo fatto proprio per i pescatori e per l'amore di questo settore, per far sì che non solo il CIS, ma che anche le serie A e il CIS feeder, che venivano nelle settimane seguenti, potessero prendere il pesce. La prova di Corbara, anche lì, sabato clamoroso, bellissimo, ci siamo divertiti tutti, domenica è venuto a piovere, ci sarebbe da pensare che siccome facciamo tanti chilometri, annullare una gara solo perché è venuto a piovere, non è venuto a piovere forte, solo perché c'erano due zone, che erano la terza e la quarta, che non avevano le rampe di accesso, perché è terra battuta, non avevano le rampe di accesso, forse bisognava pensarci prima di mettere lì una competizione così grande che poteva essere annullata solo per la pioggia, anche perché si sapeva. Comunque, da quello che mi hanno detto, è una cosa che verrà sicuramente ripristinata, quindi Corbara, grandissimo campo, campo sicuramente da sfruttare, uno dei più belli d'Italia per quanto mi riguarda, pescosissimo, molto tecnico, bellissimo, quindi se viene messo a posto questo piccolo neo che diciamo che è venuto fuori quest'anno, questo piccolo neo sicuramente è un campo gara stupendo. Per quanto riguarda invece Ostellato, ragazzi, Ostellato ha pagato secondo me uno scotto grosso, più grosso quest'anno che gli anni scorsi, per la pressione che c'è stata praticamente tutti gli anni, praticamente tutte le serie A vanno Ostellato, Ostellato, tanti regionali vanno Ostellato, il CIS va Ostellato, per me è stato messo un po' troppo sotto pressione e bisognerebbe lasciarlo un pochettino tra virgolette riposare, questo è un pensiero mio personale, non vado a non vado a giudicare niente a nessuno. Per quanto riguarda il feeder invece, sulla prima gara lì avrei da ridire anche perché la protezione civile aveva detto che ci sarebbe stato un fortissimo maltempo quella settimana lì, era prevedibile, lo sapevamo tutti io c'ero, tra l'altro ci sono le foto di me che si vede benissimo che sono a metà della banchina con l'acqua sotto il sedere tanto per farvi capire quanta acqua alta è venuta, secondo me era prevedibile e secondo me bisognerebbe fare un regolamento per cui se la protezione civile che è un ente che salvaguarda diciamo la popolazione, se la protezione civile dice che in una tale settimana c'è allerta meteo, allerta rossa le gare di pesca dovrebbero quantomeno essere inviate poi da qui si può iniziare una discussione lunga e eterna Cavolama bellissimo campo gara nel feeder ha reso benissimo è stato bellissimo e l'ultima prova del cheese feeder mi sembra che sia stata adesso non vorrei dire una cavolata ha ostellato se non dico male che lì era una pescata molto difficile ma sicuramente c'era c'era da lavorare ecco questo è il pensiero personale di Matteo Perazzini un'analisi molto precisa e puntuale dai nostri ospiti so che Glauco vorrebbe fare una precisazione ancora vorrei fare una precisazione non ho parlato singolarmente di ogni campo di gara né del colpo né del feeder però sono convinto che un campionato di serie A e di serie B cioè il cheese più i donali devono essere svolti in campi gara che ti consentono comunque di fare la gara indipendentemente dalla pescosità dunque ritengo che chi campi gara ha rischio fra virgolette di cui parlo di Umbertide che sarebbe molto semplice ridurre il problema di Umbertide si dice si va nel fiume se il fiume è sporco si va nel lago la gente lo saprà lago di Gualdo esattamente lago di Faldo esatto e per quanto riguarda Corbara eh mio personale personale opinione è un campo gara che andrebbe picchettato meglio dovrebbero tenere molto più in considerazione il fatto del picchettaggio perché ho notato che molte zone gli esterni sono praticamente hanno perso ancora prima di iniziare a pescare deve essere messa a posto la strada se si riesce a fare questo è uno dei campi di gara sicuramente più diciamo è uno dei campi di gara migliori che c'è in Italia però quando tu fai una competizione a livello nazionale e tu fai spostare della gente per tanti chilometri devi avere la certezza che il campo di gara ti consente di pescare portare un campionato italiano individuale di feeder a Mantova nel fissero nel mese di luglio o giugno o luglio giugno mi sembra è troppo presto il campo di gara di Mantova è buono quando tu con i piedi ti bruci le scarpe allora lì diventa buono se no è un campo da siluri lo sapevamo anche prima con tutte le polemiche che ci sono state le polemiche che ci sono state un bertide abbiamo fatto le prime due finali del campionato italiano a feeder nell'acqua sporca c'è stato 90% di cappotti la domenica sono cose che devono essere considerate prima sempre per quanto riguarda il feeder abbiamo fatto due campi di gara dove ci sono delle pesche molto particolari in cui non trovi riscontro internazionale siccome chi vince il campionato italiano feeder va a rappresentare l'Italia in un campionato del mondo che quest'anno sarà fatto a Plovdici in Bulgaria che è un bacino di canottaggio in cui verranno immessi i pesci perché adesso non ci sono dunque saranno sicuramente o Carassi o Brem o Carpe abbiamo fatto un campionato italiano bellissimo come come cosa a Cavedani nell'acqua corrente tipo Mincio e tipo Umbertide dove mi ripeto a livello internazionale non lo trovi ritornando al colpo ritornando al colpo secondo me è stato proprio per un fatto anche di sfortuna però nello stesso tempo sono cose che vanno considerate prima cioè Corbara ok va benissimo mi va benissimo un campo di gara bellissimo metti posto alla strada in modo che uno possa raggiungerla magari anche a piedi perché non è mica detto che è un campo di gara tu debba andare per forza 20 metri dal colpo puoi fare un limite dove mettere le macchine dove poter raggiungere il campo gara e fare la gara per quanto riguarda il Fider invece penso che sia stato un malo disastro proprio in tutti i sensi per tutti i sensi quest'anno è stata un'annata di di cambiamenti capisco chi l'ha proposto capisco chi l'ha chi l'ha avallato però lo vedo un po' comincia a scaldarsi la serata e diventa più elettrizzante sicuramente e Matteo so che ha un contraddittorio e siamo al primo argomento però è un argomento caldissimo questo qui quindi non è tanto un contraddittorio siccome io c'ero a Umbertide ero lì a pescare il campo gara era in forma fino a quando è rimasto in forma con l'acqua poi è venuto a piovere ecco siccome secondo me i pescatori devono anche essere un po' di mente aperta ok quindi siamo lì però sappiamo storicamente che lì a Umbertide ci sono i laghi di faldo come ha detto prima Glauco che erano a 200 metri allora siamo lì abbiamo speso dei soldi abbiamo speso del tempo abbiamo speso delle energie fermarci solo perché fare una qualifica o una finale in un lago è una cosa da scusate sgabardi che vuol dire da poveretti per me non è così comunque il lago di faldo aveva il suo tecnicismo ti permetteva di pescare eravamo lì abbiamo speso tutti i soldi perché addirittura era la domenica quindi avevi già comprato le esche pagato gli hotel le cene le cose secondo me se si diceva invece che fare e c'ero io tra l'altro mi hanno preso il pesce proprio accanto uno dei quattro che hanno preso il pesce era accanto a me invece che fare 76 cappotti su 80 persone secondo me se facevamo gli sgabardi andavamo ai laghi di faldo andavano a casa tutti contenti con qualche scaglia di carpa ma sicuramente pescata non tecnica ma tutti avevano preso del pesce quindi secondo me la mentalità del pescatore di oggi deve essere un po' più aperta mi interrompo un attimo secondo il mio punto di vista non è colpa del pescatore Umbertide non è la prima volta che veniamo a casa Umbertide è storicamente un campo gara che si viene a casa dunque se lo che può succedere più frequentemente che storicamente questo succede potevi inserire nel regolamento che nel caso in cui il campo di gara fosse stato sporco dalle sinistra le prove si sarebbero svolte al lago di faldo perché io non ero presente non ho fatto una gara però sono informato il giovedì si è pescato il venerdì si è pescato un po' la mattina poi è arrivata l'acqua sporca e insomma è stata la domenica e c'è stato quello che è successo ma non è la prima volta che succede dunque se si vuole che questi campi di gara rimangano a livello nazionale secondo me visto che c'è un campo di riserva di fianco che è inutilizzabile e che può andare benissimo come campo di riserva si mette un vertide nel caso in cui si mette i laghi di faldo posizione chiarissima e direi che su questo argomento abbiamo sviscerato una serie di punti che sicuramente saranno un'ottima occasione di discussione anche per i nostri ascoltatori grazie a tutti